Noi non possiamo fare niente da soli, anche se è più comodo, così ci pare, perché io penso, io sono il padrone di me stesso, io decido, ma in verità è proprio l'opposto. Più desideriamo sostenere gli uni gli altri ed aiutare gli uni gli altri, e ognuno pensa agli altri, in questo otteniamo la rete della connessione dove si rivela il bure. Solo pensate, se voi avete dieci persone, che ognuno pensa a tutti, agli altri, e così fanno tutti, e vogliamo dare in una maniera reciproca, minimale, quello che è possibile, gli uni agli altri, il bure si rivela. Il bure si rivela, eccozi.